non posso attarato attarato mozzi dc da me una mano ti ho detto che non potevo tornare non ho droni ascolti quello che dice dove sta dove sta non ho droni te l'ho detto se sono si aiutava non ho droni dove è morto da dove è morto da qua c'è uno rimangono 15 secondi rimangono 5 secondi abbiamo disegnascatore attivo protezzetelo a tutti i costi la squadra d'attacco ha eliminato i difensori altro che bea ulo porco dio non so cosa fare non so che mi ha sparato io non fatto prost vai vai entra entra plant vai 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 plant ash plant please plant plant ash vai via ti hanno scoperto la squadra d'attacco porca troia che cazzo ho di nuovo fatto robe magiche tripla attacca tanto valevano in schieratessa unici sensore rimasto riscarico 1 tap easy dove sta? non lo vedo rimangono 5 secondi disinnesco bomba avviato proteggete il disinnescatore bravissimo il nemico si scoprirà rimani qua cazzo è andato mi hanno individuato mi hanno individuato mi hanno individuato mi hanno individuato la rimuota la rimuota da te è stato bellissimo questa che madonna oddio si lo so No, no, vabbè Bravo Ricarico, copritemi Please, one C garage, please, one, one, please Guys, one, please, C garage Open Dammit, he's dead One is in garage Please, one in garage, please, guys Guys, one in garage, please Guys, one in garage, please Gana taibur Contatto, il primo piano Ultimo attaccante rimasto in vita I difensori hanno eliminato tutti i nemici Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti Bella gioca Resta solo un operatore d'attacco 15 secondi Ma dove cazzo è? Non sei coglione Ma vabbè, non ho parole 10 secondi Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti A chi ha detto che la perdiamo Ti hanno scoperto Torna indietro Ricarico Stai, stai lì, stai lì, stai lì, Davide Se volete ti penso io ho fatto il tutto a forno qua Merda, siamo qua nella merda La scena controllata dal nemico Lasciala subito Il nemico ti scoprirà La tua posizione è stata compromessa Non posso entrare ragazzi Perché non ho droni neanche Io ho un droni ma Il problema è che Ducca è fuori Hai trovato la bomba Buonissimo Occhio dietro A Occhio dietro la bomba Ragazzo, dentro 10 secondi Ragazzi, mi dico P, diamant Planto, eh 10 secondi Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Assunto Non è più tempo 多 Sì, sì Sì, sì Sì, sì Ducca Sì Allora Sì You have entered Nessun area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. I've turned in. Don't you? You are out.